Ragazzi se non l'avete ancora fatto vi ricordo di inserire nel codice supporta un creatore il codice DOC Dopo aver fatto questo fate accetta Possiamo iniziare con il video di oggi Oggi ragazzi siamo qui con lo shop di domenica 9 agosto 2020 Siamo qua con lo shop, abbiamo tantissime novità A partire dal Tridente Lapislazuli Capitolo 2 stagione 3 appena uscito Fa parte del set Maestà Corallina 500 WBAC non male Poi abbiamo PIK OLOTL Con due stili blu e verde e anche nero Bianco, rosso e nero Poi vediamo che cosa abbiamo Poi abbiamo Bare Force ON Stagione 2 1500 WBAC Non male come Delta Plano Poi abbiamo Corallina Capitolo 2 stagione 3 Sempre dello stesso set Maestà Corallina Con il suo dorso decorativo Velo Corallino 1200 WBACS Poi abbiamo Axo Questo è del set Axo Attacco Non male come skin Due stili molto 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 carini Anche se in verità hanno anche il dorso decorativo di due stili Ma c'è anche la skin con diversi stili Poi abbiamo ovviamente anche il suo dorso decorativo Tabellone fluo e poi abbiamo degli altri Dorsi decorativi Poi abbiamo Leader della squadra delle coccole Questa skin ha fatto la storia di Fortnite 2000 WBACS Skin leggendaria Con il suo dorso decorativo è uscito però Questa skin è uscita nella stagione 2 Questa nella stagione 3 Arco Coccola E invece Leader della squadra delle coccole Fa parte del set Cuori Reali Poi abbiamo il suo deltaplano Incrociatore coccoloso Stagione 8 800 WBACS Sempre il set Cuori Reali Deltaplano No che è raro Sì deltaplano raro Poi abbiamo il piccone Zampa Coccola Stagione 7 Sempre lo stesso set Cuori Reali Da 800 WBACS Poi abbiamo Una skin Che a me piace un sacco Però abbiamo finito Perché c'è anche la mimetica Coccola Stagione X Stagione 10 Fa parte sempre del set Cuori Reali 300 WBACS Poi abbiamo Avanguardia Oscura Stagione 3 Fa parte del set Esploratori dello spazio Con il suo dorso decorativo Vuoto Oscuro 2000 WBACS Bellissima skin Abbiamo Rinnegato Stagione 1 È riapparsa molte volte Questa nello shop Però abbastanza Abbastanza È molto semplice E non è male come skin 800 WBACS 800 WBACS Poi abbiamo Outvest Il balletto Quello di TikTok Che è uscito ieri Poi abbiamo La copertura Lustro Prismatico Stagione X Stagione 10 Copertura rara Poi abbiamo Poi abbiamo Amolla Il ballo Della stagione 8 Prima apparizione Nella stagione 8 500 WBACS Poi abbiamo Pizza Party 200 WBACS Della stagione X Della stagione 10 Fa parte del set Pozza Della pizza 200 WBACS Niente male Una bellissima emote E poi qui Abbiamo sempre Le solite skin Quelle Quelle del 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 Come si chiama Del Di Pomina La skin femminile Del Del pomodoro E poi Fritella La skin Maschile Del hamburger E poi abbiamo Johnny Vestibilità massima Con il suo Pacchetto manzo Con il suo Dorso decorativo Pacchetto Manzo Con due Stili E poi Finisce Qua Il negozio Oggetti Di oggi Bene Questo era Il negozio Oggetti Di oggi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordo Di lasciare Like in su Iscrivervi al canale Attivare la campanellina E niente Noi ci vediamo In un prossimo Video Bella Ah ragazzi Prima di terminare Il video Vi volevo parlare Di Boosteroid Che cos'è Boosteroid Boosteroid È una piattaforma Cloud Gaming Che costa pochissimo Che potete giocare A oltre 150 giochi Gratuiti Senza spendere Troppi soldi Per un nuovo computer Scaricatevelo Perché è un'app Veramente Veramente Anzi È un sito Veramente Utile Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordo Di lasciare A chi in su Iscrivervi al canale Attivare la campanella E noi ci vediamo In un prossimo Video Bella Ah scusate Alcuni giochi Comunque Del Boosteroid Sono a pagamento Però 150 giochi Sono Anzi Oltre 150 giochi Sono gratuiti Dopo detto questo Ci vediamo In un prossimo video Bella Ciao